Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Dunque, derby primavera che va al Torino, a Vinovo, al campo Alecchi. I Granata vincono, si impongono 2-0. Una Juentus timida, quasi mai in partita. Ha aperto le marcature Millico appunto per i Granata con un gol meraviglioso al decimo minuto, un gol pazzesco. Il giocatore da tener d'occhio perché ha sicuramente quantità, ha una fase realizzativa ma ha anche tanta qualità. E' il 24esimo gol di Millico in campionato primavera, quindi attenzione perché quando segni così tanto, anche a livello giovanile, sicuramente delle qualità ce le hai. Detto questo, il vantaggio del Torino ha smosso un po' la Juve che ha provato a recuperare ma tanta tanta qualità di palleggio sicuramente, ma alla fine tutta roba sterile che non è servita praticamente a nulla se non a far possesso palla col Torino che intanto raddoppiava. Poi nel secondo tempo grazie al gol di Onisa su un'incertezza bianconera in fase difensiva. E dunque Granata vincono, a mio avviso meritatamente, nonostante credo che la Juventus abbia fatto un po' stesso palla enorme, ma credo che il Torino alla fine nel calcio conta la concretezza, non conta il palleggio, quindi credo che sia giusto così. E adesso aiuto a cambiare marcia perché ovviamente non può permettersi di perdere il treno per i playoff. Chiudo qua il video ragazzi e me lo resta salutati e vi dare appuntamento con i prossimi video. Ciao!